L'altro sito è il sito di Banca d'Italia dove possiamo trovare la sezione l'economia per tutti, ecco poi loro in home page presentano ovviamente siamo ad ottobre il mese dell'educazione finanziaria quindi durante tutto questo mese ci sono tutta una serie di iniziative ma anche qui ecco esattamente questa inquadratura trovate le nozioni, vedi dove c'è ABC sono le informazioni di base di educazione finanziaria quindi qua davvero è aperto a tutti, a donne, uomini, giovani, meno giovani ma davvero qua possiamo trovare le risposte anche a molte informazioni, a molte definizioni che magari a volte ci lasciano un po' dubbiosi perché non sappiamo, non conosciamo la materia e quindi abbiamo bisogno di avere parole un pochino più semplici per conoscere questo tipo di concetti. Questo ai fini dell'educazione finanziaria sono due segnalazioni che vanno bene per tutti e assolutamente dobbiamo partire dalla cultura, se noi abbiamo la conoscenza riusciamo ad avere anche più sicurezza nell'interfacciarci su un tema un po' ostico per qualcuno a livello caratteriale la finanza non è proprio che è un tema piacevole, ecco magari uno ha piacere leggere qualcos'altro. Sicuramente.